Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 come è accaduto anche nelle precedenti edizioni in primo piano in apertura parliamo della maratona in consiglio regionale una maratona che si è conclusa la notte scorsa e che ha portato all'approvazione del bilancio di previsione non sono mancate le polemiche in particolare del centrodestra ma si è registrato anche si è registrato anche l'assenza del movimento 5 stelle pochi i fondi per l'istruzione ed il turismo il servizio un esausto consiglio regionale ha approvato a notte fonda la legge di stabilità con il sì della maggioranza e il no del centrodestra nella lunga maratona inoltre intorno alle 5 di questa mattina è stato licenziato il bilancio di previsione 2016 ammonta a 7 miliardi e 977 milioni di euro in totale circa un miliardo e 400 milioni di euro in più dell'anno precedente sul fronte delle entrate si può contare su un avanzo di amministrazione pari a più di un miliardo e mezzo mentre 2 miliardi e 790 milioni di euro arriveranno da tributi e gettiti erariali 237 milioni di euro da trasferimenti correnti 71 milioni da entrate extra tributarie 541 milioni da entrate in conto capitale 1 miliardo e 797 milioni infine arriveranno da partite di giro per quanto riguarda le spese invece tra le più significative spiccano i servizi istituzionali generali e di gestione a cui saranno destinati 438 milioni di euro all'istruzione al diritto allo studio vanno soli 4 milioni e 600 mila euro così come cenerentola il turismo che prende solo 3 milioni e 600 mila euro all'assetto del territorio all'edilizia abitativa vanno 30 milioni e 195 mila euro allo sviluppo sostenibile tutela del territorio e ambiente 50 milioni di euro trasporti e diritto alla mobilità prendono 217 milioni al soccorso civile vanno 16 milioni di euro alla tutela della salute 2 miliardi e 52 milioni di euro allo sviluppo economico 13 milioni di euro tra gli altri provvedimenti collegati a documenti contabili ci sono la moratoria all'apertura dei nuovi centri commerciali fino a maggio 2018 la proroga per la sanatoria dei sottotetti e la previsione di servitudi allagamento nei pressi di corsi d'acqua che istituisce il divieto di qualsiasi tipo di insediamento fino a una distanza di 400 metri dagli argini dei fiumi per quanto riguarda l'intesa politica sempre più vacillante tra la maggioranza e il centrodestra si è evitato il ricorso da parte della maggioranza alla cosiddetta legge tagliola che consente di ridurre drasticamente le proposte delle opposizioni a sole 5 per consigliere in cambio però di qualche concessione al centrodestra ai lavori del consiglio regionale di fine anno non hanno partecipato i grillini saliti sul laventino dopo aver occupato gli scranni della giunta provocando la reazione rabbiosa del presidente della regione luciano d'alfonso e per questo colpiti da censura dell'ufficio di presidenza a proposito di questo provvedimento questa mattina c'è stato l'intervento del consigliere regionale del movimento 5 stelle domenico pettinari che ha appunto denunciato il comportamento dell'ufficio di presidenza della regione cinque censure per i grillini che hanno occupato i banchi della presidenza e nessun provvedimento nei confronti degli esponenti del pd tutto nasce perché il movimento 5 stelle chiede trasparenza sulle voci del bilancio da approvare succede un atto dove c'è un video che parla insomma di quella che è stata un'azione contestata da parte della presidenza di una reazione e poi alla fine che cosa succede con il bilancio si noi abbiamo gridato negli ultimi mesi in commissione chiedendo i nostri diritti rivendicando i capitoli di spesa del bilancio che significa che i cittadini maggiormente i consiglieri devono sapere da dove si prelevano i soldi dei cittadini e dove vanno a finire non ce li hanno fatti mai vedere questo è il punto perciò abbiamo messo in atto quella protesta per ottenere i capitoli non li abbiamo ottenuti oggi hanno approvato alle 5 di questa mattina un bilancio al buio cioè un bilancio composto da macro aggregati che significa che vogliono fare cose belle magari a Pescara dicono di farle a Teramo a Chieti ma non sappiamo dove si interviene per esempio i poveri cittadini delle case popolari avranno i soldi per la manutenzione delle loro case non lo sappiamo i cittadini che gli ex dipendenti del Ciappi ce li avranno i soldi e stanno manifestando da tempo non lo sappiamo addirittura ci parlano di un milione e 700 mila euro per il turismo poi andiamo a scoprire perché solo qualche piccolo capitolo hanno scoperto questa notte in consiglio e pare che sia a zero il capitolo di spesa allora forse aveva ragione il Movimento 5 Stelle senza ombra di dubbio perché ci hanno negato i capitoli perché secondo voi non ce l'hanno fatti vedere perché quando non si fa vedere qualcosa evidentemente si nasconde qualcosa abbiamo messo in atto una protesta protesta pacifica gandiana non abbiamo alzato un dito abbiamo semplicemente occupato i banchi perché rivendichevamo questo nostro diritto che è un diritto dei cittadini loro si sono avvendati con forza nei nostri confronti noi io e la collega Sala Marcozzi siamo stati oggetti di violenza perché hanno alzato le mani nei nostri confronti e questo pochi lo dicono e non sono stati censurati per questo loro al contrario l'ufficio di presidenza ha disposto cinque censure nei confronti dei cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle questa è una gravissima disparità di trattamento e a stretto giro di posta c'è stata la replica del consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro Camillo D'Alessandro sono arrivate anche le minacce sulla sua posta elettronica e sul profilo di Facebook purtroppo sì questo accade quando si armano le persone di false notizie è stato diffuso sulla rete un video costruito ad arte nel quale sembra addirittura che io tiro qualcosa a qualcuno quando invece semplicemente cercavo di evitare che un telefonino mi riprendesse senza colpire assolutamente nessuno e per fortuna che ci sono le immagini del consiglio regionale che dimostrano esattamente questo e poi mi si attribuisce una frase eliminata da un contesto dove io stavo ironizzando con un consigliere di 5 Stelle la combinazione dell'attacca e cuci in colla ha dato l'impressione di chissà quale atto io avrei compiuto il risultato è un'aggressione mai subita sulla rete dai militanti dei 5 Stelle a cui è seguita e è stata condita anche di minacce Consigliere D'Alessandro nel frattempo è stato approvato anche il bilancio 2016 della regione Abruzzo quali sono le novità? Da un lato la massa debitoria mai accertata perché se l'avessero accertata l'avrebbero dovuto iscrivere in bilancio inizia ad essere inserita nel bilancio per cui puliamo i debiti del passato per fare in modo che le generazioni future non vengano ulteriormente appesantite di debiti la seconda questione noi garantiamo partite finanziarie importanti sul sociale sui trasporti ulteriormente da rimpinguare con i passaggi successivi durante il corso dell'anno e sulla tenuta economica e sociale della nostra regione sapendo che l'imperativo del 2016 è il lavoro a tutti i costi dobbiamo fare in modo che la massa finanziaria disponibile che deriva dalle programmazioni nazionali e comunitari che la regione Abruzzo dispone venga messa nel circuito economico cosa che non è accaduta nel passato e che invece noi dobbiamo fare in modo che quelli soldi diventano cantiere, economia, finanziamenti alle imprese questo è l'impegno che si esprime col bilancio approvato La cronaca si era allontanato da casa lo scorso 28 dicembre tre giorni di ricerca e poi questa mattina la scoperta fatta da un cacciatore Francesco Silveri è morto ritrovato nella campagna tra Camarda e Filetto nell'Aquilano è stato ritrovato senza vita di Ilio Francesco Silveri l'83enne di Paganica scomparso lo scorso 28 dicembre questa mattina un cacciatore nella strada tra Filetto e Camarda frazioni dell'Aquila, località Ornatina ha notato il corpo dell'uomo a terra nelle campagne sul posto carabinieri e vigili del fuoco sarà l'autopsia ora a stabilire le cause del decesso probabilmente un malore complice anche il freddo di questi giorni diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti l'uomo lunedì pomeriggio si era allontanato da casa a Paganica intorno alle 17.30 e non vi ha fatto più rientro sono stati familiari a dare subito l'allarme ai carabinieri da un conoscente di Ilio Francesco Silveri si era fatto lasciare vicino alla sua vecchia abitazione inagibile al centro del paese tre giorni di ricerche condotte da vigili del fuoco, forestale, soccorso alpino e carabinieri senza esito estese anche a Castelvecchio Subequeo paese d'origine dell'anziano fino a stamattina il tragico epilogo aumento di arresti del 35% denunce diminuite dell'11,5% il numero dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria è sceso del 19% e poi in calo del 14% il numero dei delitti rilevati dalle forze dell'ordine e quanto emerge tra l'altro da un riepilogo dei dati reso noto dalla questura di Chieti relativo all'attività svolta nel 2015 cifre che secondo la questura fanno ritenere senza ombra di dubbio che il senso di sicurezza percepita dovrebbe considerarsi elevato nella cittadinanza in provincia di Chieti tra le maggiori operazioni di polizia giudiziaria svolte dalla squadra mobile nell'anno che va chiudendosi l'operazione Super Mario Bros che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale in grado di controllare il monopolio dello spaccio di stupefacenti ed effettuare estorsione, rapina e porto illegale di armi clandestine e poi l'operazione Viribus Unitis che ha disarticolato un sodalizio specializzato nell'acquisizione di aziende in crisi di liquidità Le micropolveri registrate nella città di Pescara fanno scattare nuovi provvedimenti dal 12 gennaio targhe alterne subito riscaldamento contingentato e lavaggio delle strade l'incontro con associazioni e ambientalisti diventa un tavolo di lavoro il sindaco annuncia dopo l'emergenza Riviera Pedonale I rimedi contro lo smog sono stati al centro del partecipatissimo incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala giunta del comune di Pescara presieduto dal sindaco Marco Alessandrini dal vicepresidente e assessore alla mobilità Enzo Del Vecchio dall'assessore all'ambiente Paola Marchegiani dai presidenti delle commissioni consigliari mobilità e ambiente e a cui hanno preso parte associazioni di categoria ambientaliste, comitati e gruppi cittadini TUA e ACI tutti convocati per condividere misure che scatteranno dal prossimo 12 gennaio al fine di limitare il livello delle polveri registrato anche in città come nel resto d'Italia nell'immediato si procederà con alcuni provvedimenti sostanziali ha annunciato il sindaco Marco Alessandrini targhe alterne per due giorni interi a settimana e per la durata di tre mesi il martedì circoleranno quelle pari il giovedì le dispari ordinanza che riduce di un grado la temperatura consentita nei condomini portandola da 20 a 19 gradi lavaggio delle strade da parte di Attiva accanto a queste misure verranno programmati anche altri interventi che saranno condivisi in un ulteriore incontro tavolo che l'amministrazione comunale intende organizzare quale strumento di lavoro in cui coinvolgere anche le scuole si porranno così le basi per il piano urbano del traffico lavorando ad uno strumento per la mobilità di aria vasta immaginando con soggetti preposti come tua ipotesi di spostamento attuabili con vettori sia su gomma che ferro e sostenibili all'interno dei tracciati già esistenti ponendo anche le basi per un vero e proprio piano regolatore dei tempi per monitorare ingressi e spostamenti delle auto tutte proposte affiorate dai vari soggetti che hanno partecipato alla riunione e che meritano ulteriori approfondimenti che l'amministrazione non mancherà di fare con gli uffici della mobilità infine l'amministrazione intende sostenere nuove pedonalizzazioni già dalla prossima primavera una sperimentazione riguarderà la riviera argomento di cui si è già discusso in giunta al fine di vagliarne la fattibilità e memori del successo riscontrato dalla chiusura del tracciato riverasco la scorsa estate con la notte del Mediterraneo la concretizzazione con l'operazione tallone d'Achille gli uomini della guardia costiera di Pescara in collaborazione con i carabinieri del NAS ha sequestrato 9,6 tonnellate di pesce in varie zone di Abruzzo e Molise ed elevato sanzioni amministrative totali per 77 mila euro fra i sequestri più rilevanti in particolare quello in un centro di distribuzione di prodotto ittico di Fossa Cesia in provincia di Chieti sequestrati circa 1600 kg di gamberi rosa con l'elevazione di una sanzione amministrativa di 1500 euro al titolare del deposito per la violazione della normativa sulla tracciabilità in due stabilimenti di trasformazione di prodotto ittico a Martinsicuro in provincia di Teramo sono stati rinvenuti 7600 kg di pescato vario privo di documentazione che ne attestasse la provenienza è il momento questo di effettuare i bilanci dell'attività svolta nel 2015 partiamo dal senatore Antonio Razzi che è tornato in Abruzzo per trascorrere le festività come ogni anno torna in Abruzzo per trascorrere qui le sue vacanze di Natale Antonio Razzi sottolinea sempre il suo attaccamento alla terra natia ma infatti ci sono anche le televisioni nazionali mi hanno intervistato su questo io rimango in Abruzzo i miei soldi lo voglio lasciare agli abruzzoni il 2015 volge al termine allora come si fa sempre in questi casi si stila un elenco di fatti che lo hanno caratterizzato e soprattutto di mete ancora da raggiungere di politica e non io innanzitutto sono soddisfatto per quanto riguarda la galleria di San Silvestro che è stata una mia iniziativa interparlamentare dove è stato stanziato 4.950.000 euro e la galleria di San Silvestro è fatta diciamo quasi come in Svizzera perfetto, bello, pulito e vi faccio i complimenti a coloro che l'hanno fatto per l'Abruzzo invece quale può essere il desiderio per il 2016? ma sicuramente far ripartire l'economia far ripartire anche il commercio e di commercio non ce n'è tanto io adesso il 29 di gennaio ci sarà l'ambasciatore della Corea del Sud per far capire dove la capitale è Seoul e io spero che anche lì alla Camera di Commercio di Pescara possano partecipare tanti imprenditori che vogliono diciamo avere delle relazioni con la Corea del Sud e questo mi sembra una bella iniziativa e invece politicamente che 2015 è stato parlando di Forza Italia parlando di Abruzzo ma c'è stato un po' di malessere un mal di pancia e che ce n'è ancora tutt'oggi io spero che questo mal di pancia passa e che possa nel 2016 riorganizzarsi alla grande perché ne vale la pena per tutti gli abruzzesi che il centro-destra si uniscono compatti e che diciamo che sotterrano l'asce di guerra perché non serve a nessuno e andiamo un po' più nel locale ascoltando le parole del sindaco di Pescara a Marco Alessandrini che traccia un bilancio dell'attività svolta in comune un 2015 che ha visto Pescara al centro dell'attenzione spesso delle polemiche l'ordinanza sul divieto di balneazione il ponte del cielo le tasse alle aliquote massime la spending review e la richiesta di dimissioni verso il primo cittadino ma è stato anche l'anno dei giochi del Mediterraneo trasmessi in Eurovisione l'Expo a Milano quello degli eventi a basso impatto e a basso costo come la notte bianca dello shopping lo street food i nuovi collegamenti stradali inaugurati i tanti cantieri in corso d'opera e poi tante battaglie in aula Marco Alessandrini stila il resoconto dell'anno che volge al termine un anno che ha segnato per questa amministrazione un passaggio importante con l'approvazione del nostro piano di riequilibrio questa magari è una cosa che non scalda il cuore delle persone però è necessario sapere che senza basi finanziarie tutto diventa più complicato poi c'è il fatto che il tempo ti consente di cominciare a disegnare una trama una città che tu vuoi migliorare e che immagini sempre migliore e poi siamo a fine anno ed è anche un'occasione per in qualche modo rivolgersi direttamente alla cittadinanza per fare alla cittadinanza stessa gli auguri di un buon anno mostrando da parte del sindaco vicinanza ai bisogni alle speranze però anche della comunità perché io penso che la parola speranza sia sovente dimenticata invece noi siamo un grande paese siamo una grande comunità e abbiamo tutti gli strumenti e le forze per farcela per farcela la grande Qual è l'ambizione più grande che si può avere per Pescara per il 2016? Pescara deve continuare a crescere Pescara è la diciamo città guida dell'area metropolitana vasta ed è in qualche modo la porta dell'Abruzzo non solo come recita il suo standard e quindi noi ci vogliamo continuare a porre come punto di riferimento sostanzialmente per questa area vasta con l'idea che insieme dobbiamo lavorare per costruirla sempre migliore sempre più efficace sempre più prossima ai bisogni della collettività Ed ora il bilancio dell'attività svolta in comune dal sindaco di Pineto Robert Verrocchio Il 2015 della città di Pineto lo possiamo definire di programmazione come ha detto in conferenza stampa perché? Programmazione perché abbiamo gettato le basi affinché il 2016 sia un anno dedicato alle opere le azioni importanti e questo territorio si aspetta partiamo dalla sicurezza quindi guardando al rischio idrogeologico saranno oltre 3 milioni e mezzo di interventi sul nostro territorio grazie alla provincia grazie alla regione sicurezza perché parliamo della mobilità sul territorio quindi se pensiamo alle piste ciclabili un'opera è stata già appaltata in questi giorni i lavori sono in corso verso Borgo Santa Maria continuerà invece nei primi mesi del 2016 avranno avvio le opere per il completamento del bike to coast quindi il tracciato lungo tutta la costa fino ai confini di Silvi e di Roseto sicurezza anche perché abbiamo di recente installato sul territorio su richieste ai cittadini anche numerose telecamere nonostante difficoltà ha fatto uno sforzo in più per assegnare diciamo qualche risorsa in più alle famiglie bisognose pensiamo al social market nei primi mesi del 2016 daremo corsa a questo ulteriore importante progetto di aiuto appunto alle famiglie più bisognose pensiamo all'ambiente sono oltre 10 anni il comune di Pineto ininterrottamente riesce ad ottenere l'assegnazione della bandiera blu pensiamo al turismo lo scorso anno abbiamo investito tanto nell'identificare il nostro territorio per alcuni eventi importanti nell'ambito dello sport che ringraziamo il Cerrano Outdoors e penso al meeting o piuttosto allo sforzo fatto per ristaurare un rapporto e dialogo con il mondo degli alpini in occasione della Dunata stiamo continuando a lavorare su questo senso sulle iniziative sportive quest'anno sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi ma che hanno un significato soprattutto sociale perché pensiamo che in febbraio ad esempio ospiteremo il ritiro della nazionale ciclismo paralimpica con la presenza di Zenardi all'interno della squadra così come continueremo con il campionato nazionale di bocce per disabili il campionato nazionale ANED dei trapiantati fino a proseguire poi attraverso gli altri appuntamenti di nuoto di calcio fino alla notte bianca che un po' va come dire coronare tutte le iniziative sportive dell'anno stiamo attivando importanti canali verso l'Europa di dialogo anche con altri paesi perché crediamo importante la risorsa dell'Europa come progettazione e anche come crescere il territorio non solo dal punto di vista economico e finanziario tra poco molti moltissimi di voi saranno a tavola per il cenone di Capodanno e siamo andati al ristorante D1 di Montepagano di Roseto per vedere come ci si sta preparando appunto al cenone ci troviamo al ristorante diffuso D1 di Montepagano da poco l'apertura per vedere qual è la preparazione in vista di questa sera per il gran cenone di Capodanno Tutto pronto per stasera? Tutto pronto sì tutto pronto Come vi state preparando? Allora noi ci stiamo preparando cominciando dall'accoglienza che sarebbe qua e poi abbiamo il nostro bartender Michele che ha preparato dei cocktail che noi serviremo con delle ostriche per questa sera cocktail di benvenuto accompagnato con le ostriche Tutto pronto in sala vediamo il ragazzo lì che si sta preparando poi ha anche una particolarità è stato ad un programma televisivo famoso sì è stato a Tusiche Vales sul canale 5 quindi è un professionista diciamo e ora non ci resta che scoprire il menù della serata a quello vi lascio lo chef abbiamo scelto abbiamo scelto il cannolo nostro di ricciola con una variazione non mettiamo il tartufo nero ma mettiamo le erbe a cipollina e le verdure croccanti poi abbiamo scelto il tono al vasavi che è un piatto che piace tantissimo e li andremo con il trebbiano poi abbiamo fatto una seppia sporca e un ultimo piatto che è fatto da poco che è una seppia sporcata a modo nostro con il proprio nero e poi con l'aggiunta degli altri ingredienti che sul piatto appare minimal come una seppia sporca ma in realtà ha un'esplosione di gusto e di consistenza molto piacevole poi continuiamo con un tagliolino al tartufo bianco sempre un tartufo aquiliano per rimanere in zona semplicissimo poi con un fagottello al pecorino di farindola caviale e limone per profumare e una salsa prezzemolo che in realtà è un estratto di prezzemolo quindi la facciamo molto naturale e poi concludiamo con una triglia imborrata al tartufo nero e poi e infine una coda di rosporale e lardellata con i ceci di navelli con una pure di ceci di navelli dolci? dolci facciamo il panettone l'abbiamo chiamato che è una rivisitazione del panettone classico iniziamo con il franciacorta che è una bollicina medito classico 36 mesi su lieviti si abbina molto bene col pesce crudo per iniziare poi continuiamo con un trebbiano locale passiamo un montepulciano ma non troppo forte perché comunque c'è presenza di tartufo e abbiamo pensato un prodotto aquilano perché ci sono i ceci di navelli quindi si abbina molto bene per terminare il classico champagne francese non metodo classico e dal cenone di Capodanno alla pagina sportiva parliamo di Serie B e nel prossimo servizio parliamo del Capodanno decisamente diverso agli antipodi che stanno vivendo le due cugine di Serie B il Pescara e la Virtus Lanciano staff tecnico e giocatori del Pescara si godono i meritati giorni di riposo e le feste di Capodanno in attesa di tornare a sudare per preparare una seconda parte di stagione che dovrà confermare le certezze acquisite finora per poi compiere un ulteriore salto di qualità che potrebbe portare i biancazzurri a competere per la Serie A diretta funzionali a ciò anche le mosse di mercato tra quelli in entrata il nome più caldo come già detto è quello di Ismail Ekmaidat che arriverebbe in presido dopo che la Roma ne perfezionerà l'acquisto dal Brescia l'alternativa è Antonio Zito dell'Avellino meno giovane ma più scafato per la categoria anche Zito risponde ai canoni della mezzala di qualità da mettere a disposizione di Massimo Oddo per la difesa si tiene sempre d'occhio Maurizio Domizzi dell'Udinese che comunque ha un ingaggio importante per l'attacco il Pescara insiste per Antonio Piccolo in uscita da Lanciano la prossima settimana le due società si rimetteranno a tavolino resta da convincere anche il calciatore sul quale ci sono le sirene di Novara e Spezia la società Ligure è disposta ad un notevole sforzo pur di accaparrarselo l'arrivo di Piccolo toglierebbe spazio da Andrea Cocco che è stata una delle delusioni del girone d'andata per ritrovarsi l'attaccante potrebbe tornare a Vicenza dove lo scorso anno ha fatto faville e la squadra di Marino che naviga in brutte acque sarebbe stracontenta di riaccoglierlo da valutare la formula forse il prestito anche se il presidente Sebastiani parlava di Cocco come una sorta di rinforzo di gennaio del Pescara in attesa della sua esplosione ma le dinamiche di mercato sono imprevedibili e l'arrivo di un giocatore della caratura di Piccolo potrebbe incentivare l'uscita dell'attaccante Cagliaritano in casa Virtus Lanciano tra voci di eventuali penalizzazioni e di esodi di giocatori continua a farsi largo l'ipotesi di una cessione societaria l'ipotesi al momento resta tale ma del lavorio c'è uomini del gruppo Colasante sono all'opera per studiare la situazione il noto imprenditore lancianese è all'estero e non è possibile avere ulteriori dettagli la famiglia Maio intanto programma la finestra di mercato che al momento si prospetta ricca di uscite i conti rappresentano la priorità e le partenze permetteranno di monetizzare e consentiranno un alleggerimento del monte stipendi il problema è che tutto questo rischia di cozzare contro i propositi di salvezza e per questo i tifosi sono preoccupati Piccolo Marilungo Puccino e Crecco sono quasi da considerare degli ex interessi forti anche verso Paghere e Mammarella il 2016 sarà l'anno di tanti addi per la Virtus Lanciano Pescara e Virtus si ritroveranno un amico come nemico nel girone di ritorno parliamo di Andrea Camplone che è ufficialmente il nuovo allenatore del Bari ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2016 prende il posto dell'esonerato Davide Nicola Andrea Camplone inutile presentarlo pescarese ex giocatore del Pescara ex allenatore della Virtus Lanciano scendiamo ora in Lega Pro e riviviamo in questo servizio l'anno davvero particolare contraddittorio vissuto dal Teramo dal tripudio per la prima storica Serie B al culmine di un campionato strepitoso che ha mandato in estasi una intera città ad un'estate da incubo vissuta sul filo dei nervi delle tensioni per un'inchiesta sportiva che ha scippato l'agoniato traguardo raggiunto ad un gruppo che sul campo lo aveva pienamente meritato il 2015 resterà per sempre negli annali della Teramo Calcio un anno incredibile dove è successo tutto il contrario di tutto quel che resta ai Biancorossi ora è una stagione di Lega Pro disputata tra le macerie di una B che in tanti dei calciatori che sono rimasti pensavano di meritare ma che è rimasta un miraggio una stagione giocata con quel tarlo in testa che non va più via più che un tarlo un macigno una proprietà anche lei fiaccata da questa vicenda che sembra aver smarrito la via maestra con una progettualità probabilmente da ridefinire dal sogno all'incubo 24 risultati utili consecutivi un gioco scintillante nobilitato da due attaccanti straripanti nella qualità e nei numeri uno stadio Bonolis che ha riscritto di partita in partita nuovi record di presenze per un pubblico mai così caldo e numeroso la spedizione dei Mille di Savona di quel 2 maggio che ha fatto piangere tanti per la gioia un mese sportivamente da favola aspettando la cadetteria finché quelle lacrime di gioia si sono trasformati in lacrime di sgomento da quelle 10 giugno quando il mondo si è rovesciato da fine agosto il verdetto sostanzialmente inappellabile col Teramo sballottato prima in Serie D poi in Lega Pro per un verdetto che ancora continua ad avere dei lati oscuri perché è vero che due persone cruciali nelle vicende della Teramo Calcio il numero uno Luciano Campitelli il presidente e la mente che ha assemblato un gruppo fantastico e che lo ha fatto per anni Marcello Di Giuseppe l'allora direttore sportivo hanno riportato delle pesanti inibizioni e multe errori evidentemente ne sono stati commessi eppure allo stato attuale dei fatti non si conoscono giocatori di quel Savona responsabili di illecito per coerenza il nostro auspicio è che questi giocatori se ci sono rispondano davanti agli organi di giustizia sportiva forse sarà anche più facile per molti giocatori e tifosi accettare un verdetto che ancora non viene del tutto digerito perché poi se non dovessero esserci questi calciatori responsabili di illecito e i 75 punti contro i 71 della seconda classificata dovessero essere veri e pieni il verdetto saprebbe di più di beffa cioè una condanna per una partita vera chiusa la parentesi è evidente ora che per il Teramo il mercato di gennaio sarà decisivo per correggere i tanti errori commessi a settembre ma la fretta e lo stordimento post verdetto hanno giocato brutti scherzi la squadra dovrà riprendersi subito restare nelle zone basse troppo a lungo sarebbe solo che deleterio il 2016 dovrà essere un anno di rinascita dalle ceneri degli ultimi mesi è tutto per questa seconda edizione del TG6 buona serata buon cenone e da parte della redazione di TV6 gli auguri di buon anno buon anno